Ben ritrovati amici dal vostro Jumpy, ben ritornati sul mio canale, vi devo dire grazie, anzi 500 volte grazie, perché ho raggiunto la quota 500 iscritti, anzi l'ho superata, e quindi non può che farmi un enorme piacere, vi ringrazio veramente di cuore sentito, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che mi supportano in questa mia avventura. Non mi piace dire da youtuber, perché mi piace dire da opinionista del calcio, in quanto sento comunque di appartenere, quindi opinionista del calcio, ma soprattutto della Sampdoria, perché è la mia squadra, è la mia amata, è la mia volta e sofferenza, però niente. Allora, ieri sera c'è stata la trentatresima giornata di campionato, e io per problemi praticamente non sono riuscito a fare il post partita, sia della Sampdoria che degli altri, e quindi lo faccio oggi, anche perché domani è già tempo di pronostici della trentatquatresima giornata, quindi volevo solo praticamente fare un breve post su quello che è stato ieri sera alla giornata di campionato. Allora, praticamente, parliamo solo della partita, innanzitutto. Allora, la partita praticamente è stata vinta dalla Sampdoria per 1-0 al gol, con il gol di Duvan Zapata al novantatresimo. Quindi, praticamente, a partita finita, Zapata trova il gol. E la Sampdoria porta tre punti a casa. Questi tre punti, utilissimi, la riproiettano in corsa per l'Europa, perché il Milan ha pareggiato a Torino, quindi ha preso un punto, la Fiorentina ha perso in casa con la Lazio, e chi ci sta davanti è l'Atalanta, che ha guadagnato sempre tre punti, vincendo col Benevento. E quindi, praticamente, siamo a tre punti dal sesto posto, perché il Milan è al sesto posto, quindi ci sono il sesto e il settimo posto. Al momento se la giocano in quattro, ovvero Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. Quindi, nel giro dei tre punti, quattro squadre. Allora, la partita non è stata una grandissima Sampdoria, ha avuto delle occasioni, secondo me ha rischiato anche poco. Forse, l'ingresso di Strinic con Berezinski, dall'altra parte, si sono visti gli effetti di avere due terzini, soprattutto Strinic, di avere veramente un terzino come si deve, perché gli altri sono proprio improponibili, imparagonabili in confronto a lui. Quindi, è importantissimo. Anzi, se io fossi nella società, perché so che in società ogni tanto qualcuno spia, quindi ogni tanto vengono anche a vedere un po' cosa si dice in giro. Quindi, ogni tanto qualcuno spia anche il mio canale, questo lo so. Quindi, quello che posso dire io alla società, se in questo caso mi stanno seguendo, Strinic, io proverei, anche alzando qualcosa, a tenerlo anche per il prossimo anno. È vero che ha già preso accordi con Milan, ma sono solo accordi. Quindi, gli accordi, finché non c'è nulla di firmato, lui non ha potuto firmare prima, anzi non può firmare, fino alla riapertura del mercato. Quindi, io se fossi nella società, anche perché ce l'hai già in casa uno forte, perché andare a cercare fuori? Strinic è un grandissimo giocatore, non è Marcello, però è un grandissimo giocatore in confronto a quelli che abbiamo, cioè a Murru e Regini quando si mettono, sono improponibili in confronto a lui. Quindi, ieri, devo dire che la difesa ha giocato abbastanza bene, abbiamo rischiato poco o niente, e quindi, finalmente, ieri abbiamo incassato zero gol, finalmente. Mi sono piaciuti a centrocampo, e davanti, onestamente, siamo un po' sterili. Allora, innanzitutto, non possiamo fare a meno di Duvanzapata. Se non c'è lui, siamo improponibili, perché c'è stato sì un tiro di Kovnak, ma è giovane, il ragazzino è giovane, il polacco, e deve farsi, quindi qualsiasi cosa faccia, anche se sbaglia, lui non li va, ma poi mi piace tantissimo, per quello che ho visto mi piace, quindi non li va data nessuna colpa. Poi, Quagliarella non riesce più a buttarla dentro, non riesce a segnare, ieri ci stava quasi per uscire, poi Romagnoli, mi pare, è riuscito a intercettare il suo tiro, se no era gol, comunque, non riesce più a buttarla dentro. Si è fermato al momento a 18 gol stagionali, e mancano 5 partite, quindi io spero possa arrivare a 20, almeno. Per la Samp, e per lui, ma soprattutto per la Samp. E poi, cosa dire di Caprari? Io Caprari, non so, a me piace, le qualità ce le ha, ce le ha le qualità. Però non riesce a segnare, porca di quella miseria, non riesce a buttare sta palla dentro. È incredibile, mi dispiace perché io sono pro Caprari, non contro. Perché le qualità ce le ha, si vede, è molto veloce, è tecnico, e le qualità ce le ha. Però, niente, non riesce a buttare dentro sto cazzo di pallone, non ci riesce. Non ci riesce. Non so, cosa dite voi su Caprari? Ditemelo nei commenti. Comunque, secondo me, Europa o non Europa, la Samp va rivisto qualcosa soprattutto davanti. Anche perché Quagliarella avrà un anno in più, e sarà difficile ripetere i 18 gol. Zapata ha fatto 11 gol totali, alla fine, non è male, 11 gol. E quindi non si può prescindere da Zapata. Non si può in qualsiasi maniera, la giri come la giri, non puoi. Zapata è fondamentale per la Samp, per l'attacco della Samp. E quindi, praticamente, ci riportiamo in corsa, e su questo treno per l'Europa, nel giro di tre punti, ci sono quattro squadre, perché a tre punti c'è il Milan, che occupa il sesto posto. Quindi Milan, Fiorentina, Atalanta e Samp. Adesso però si fa dura, perché domenica andiamo a giocare a Roma, e Roma, la Lazio è un po' la nostra bestia nera, perché perdiamo sempre, quasi sempre, è difficile avere delle vittorie, sia a Genova che a Roma. Poi, maledetti, quella Coppa Italia a me mi è rimasta qui. Quello non so a voi, ma a me quella Coppa Italia mi è rimasta lì. Quindi spererei tanto in una vittoria della Samp, non solo per i tre punti, ma anche perché finalmente li battiamo. Anche perché adesso non sono andato a vedere le statistiche, ma mi pare che da un po' che non vinciamo con la Lazio. E niente, quindi adesso vediamo cosa succederà domenica. Io la vedo molto dura, molto difficile, non so. Voi come la vedete? Scrivetemelo nei commenti. Comunque, sono contento che la Samp sia agganciata al treno dell'Europa, perché comunque, secondo me, si può giocare benissimo. Abbiamo due partite difficilissime, difficili, proprio difficili. Quella con la Lazio e quella con il Napoli. Poi le altre, non è che non sono, però comunque ce le possiamo giocare. Però con la Lazio è difficilissima. Con Napoli e Genova speriamo di fare risultato. Tanto ormai il Napoli lo scudetto se lo può scordare. Anche se ieri ha guadagnato due punti, secondo me lo scudetto rimarrà della Juve. Niente, adesso domani farò i pronostici della 34esima giornata e vediamo cosa ci offre questo weekend. Per quanto riguarda questi ultimi pronostici che ho fatto, ho beccato 8 squadre. 8 su 10 risultati ho beccato 8 risultati. Praticamente ho sbagliato la Juve, che credo che l'abbiano sbagliato così tutti. Nessuno ci aspettava l'X della Juve. E poi mi aspettavo che il Verona avesse una reazione, quindi ci ho voluto dare fiducia. Ho dato 1x, ma invece il Sassuolo ha vinto, quindi ho sbagliato queste due. Però 8 le ho prese. Comunque io consiglio sempre la Juve di non giocarsela mai, perché la Juve di solito vince ed è pagata poco. Quindi conviene non giocarsela. Poi l'altra, vabbè, il Verona, io gli ho voluto dare fiducia. Ho detto, ma chissà che magari adesso... Ma... Il Verona mi dispiace, ma il Verona sta proprio in... Come dicono, sta inguaiato. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao dalla vostra Jumpy.